ciao mi chiamo caterina e sul sito live my beats mi chiamo caterina 11 questo è il sito live my beats e questa volta mi sono aggiudicata le cuffie sony che sono anche per la piscina che mi sono arrivata e me le sono aggiudicata a 2 centesimi adesso abbiamo il pacchetto ma solido prodotto originale le istruzioni varie lingue della sony dentro la confezione si trova questo qui che per caricare le cuffie della sony con usb poi si trovano due tipi di ricambi che questi qua sono per la piscina questi qua sono più da corsa varie misure il corpo intero che ordinato nere eccoli qua come potete vedere sono originali come si mettono si mettono così ecco qua poi qua come devono mettere con questo contatto qui 1 e 2 poi ovviamente questo si mette o nel computer o nel caricabatterie che ha usb e qui si accende il led quindi cosa dire questo è il prodotto originale come al solito sul sito live my beats quindi che dirvi io sono come al solito contenta e spero nella prossima vincita ci vediamo grazie la vincita ci vediamo grazie la vincita ci vediamo grazie la vincita ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti